buongiorno sono sarah innocenti del centro guide siena e toscana dietro alle mie spalle vedete palazzo pretorio che corrisponde al nucleo più antico del borgo di certaldo anticamente questa struttura faceva parte del complesso monumentale legato alla famiglia degli alberti il castello che loro avevano in questo territorio già nella seconda metà del dodicesimo secolo quando gli alberti perdono la supremazia sulla val d'elza e perdono molti dei loro castelli anche questo insediamento viene acquisito dalla dalla città di firenze nasce così il borgo di certaldo che sarà sempre legato all'autorità fiorentina diventando poi nel 400 sede del vicariato ragione per cui questo palazzo porta il nome di palazzo pretorio in quanto era la sede e la residenza del vicario con annessi tutti gli ambienti che servivano per quello che era l'esercizio della giustizia compresi le carceri all'interno del palazzo pretorio nella chiesa dei santi tommaso e prospero è possibile ammirare il bellissimo fresco realizzato nella seconda metà del 400 da benozzo gozzoli che dipinse una deposizione per il tabernacolo dei giustiziati situato fuori dal borgo lungo il borgo sono è possibile ancora oggi ammirare delle bellissime case torri del primo insediamento del tredicesimo secolo inclusa la chiesa dei santi jacopo e filippo a metà del borgo si trova anche la casa di giovanni boccaccio siamo nella chiesa dei santi jacopo e filippo a certaldo come vedete ci sono bellissime opere intorno a me come il cristo scolpito che sta alle mie spalle un'opera appreggiatissima del tredicesimo secolo delle bellissime robbiane di cui abbiamo l'importante miracolo della madonna della neve della bottega di giovanni giovanni della robbia e poi il sepolcro di messer boccaccio da certaldo con una lapide sulla parete che lo che lo ricorda con un'iscrizione funeraria nella chiesa sepolta anche la beata giulia dell'arena e sopra il suo sepolcro si trova da predella con le storie della sua vita che è l'unica testimonianza iconografica che abbiamo di questa santa il borgo di certaldo offre bellissimi monumenti e bellissimi panorami vi aspettiamo a visitare questo bellissimo luogo magari con una guida turistica